Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo nuovo video di Fortnite vi parlerò nuovamente del miglior luogo, a mio avviso ovviamente, dove potenziare o alterare le armi. Un luogo dove praticamente non ci viene mai nessuno. Da quando l'acqua si è abbassata, il vecchio luogo non è più disponibile. Quindi se giocate in rissa squadre ed avete appunto già i materiali a disposizione con le armi, potete alterare e potenziare le armi praticamente qui, tra Borgo Bislacco e Siepi d'Agrifoglio, dove c'è questo laghetto. Quindi venite qui e potete potenziare o alterare le armi indisturbati.